Ciao a tutti, sono Jesús Gioveras, il regista del film La Corriente, mi dispiace però non abbiamo ancora un titolo in italiano, e ho realizzato questo video per incoraggiarvi a seguire la campagna che lanceremo presto. Abbiamo organizzato una campagna di crowdfunding a Verkami che partirà vendredi prossimo 19. Verkami è una piattaforma di crowdfunding culturale, è il crowdfunding per chi di voi non lo sapese, e un sistema di finanziamento basato su piccoli contributi di un gruppo, i mezzanati. Voglio incoraggiarvi a continuare il nostro progetto a Verkami, d'ora in poi, e quindi avere un buon lancio vendredì prossimo. Come si può fare? Devi entrare nella piattaforma tramite il link che troverai facilmente nei nostri social network, registrarti con la tua email e seguire il progetto, questo è molto importante. E perché? Quindi quando lanceremo la campagna, sarai il primo a saperlo, e con i tuoi contributi, primo, sosterrai il cinema e la cultura. Secondo, perché per i contributi dei nostri mezzanati stiamo preparando molte ricompense che sicuramente ti piaceranno. E terzo, perché altre ricompense stiamo anche organizzando un sorteggio aggiuntivo per i nostri mezzanati per le prime 72 ore. Quindi ti incoraggio a seguirci su Verkami e presto a vedere alcune immagini di La Corriente e incontrare il maraviglioso team che ha già lavorato e continua a lavorare duro per finire questo film. Grazie mille e a presto!